Rispetto alla vicenda dell'ex ministro della cultura San Giuliano, che sappiamo essersi dimesso e al suo posto è subentrato Alessandro Giuli, ex direttore del Maxi, oggi si parla molto di un sistema. Perché si parla di sistema? Perché si dice che l'atteggiamento, comunque gli interventi che l'ex ministro aveva fatto all'interno di quel sistema culturale ormai radicato che aveva messo in piedi la sinistra, ha fatto sì che si creasse delle forti inamicizie. Ma cerchiamo di andare a vedere che cosa ha fatto l'ex ministro San Giuliano per far magari innervosire o comunque è andato a toccare delle corde intoccabili. Ha fatto sì che qualcuno volesse rimettere ordine ed evitare che tutto quello che stava cercando di fare potesse andare a compimento? Allora, il ministro San Giuliano innanzitutto cosa ha fatto? Ha toccato quelli che sono i fondi al cinema. E questo è stato quello che ha fatto innervosire più attori e registi, che abituati ad un sistema del PD dove questi fondi contributi arrivavano a pioggia, arrivando San Giuliano ha detto stop. È l'ora di arginare questa deriva, di dare questi fondi milionari soprattutto a pellicole che magari registrano dei numeri di spettatori che sono addirittura 29. C'è un esempio su tutto e questo ve lo dico. C'è stata una pellicola che si chiamava Prima di andare via, una pellicola di Massimo Cappelli, che è costato 700 mila euro di contributi ministeriali e che ha fatto staccare 29 biglietti al botteghino. Oppure ci sono altre due pellicole, Sherlock, Santa e Ladri di Natale, che erano due film di Francesco Cinque Mani, che avevano ricevuto dei contributi ministeriali di circa 4 milioni di euro e hanno incassato 13 mila euro. A quel punto San Giuliano ha detto stop. Questi soldi a pioggia è il momento di tagliarli. Addirittura dovete sapere che i registi prendevano dei compensi illimitati, soldi veramente esagerati. San Giuliano ha detto no. Chi prende delle sovvenzioni ministeriali per la pellicola che andrà a dirigere avrà diritto ad uno stipendio equiparato a quello dei manager pubblici, ovvero ci sarà un tetto di 240 mila euro all'anno. Chiaramente tutti sono saltati dalla sedia. Non per ultimo Nanni Moretti, che durante il recente festival del cinema di Venezia ha detto queste parole, ha detto ai colleghi produttori e registi, insomma, dovremmo essere più reattivi nei confronti della pessima legge sul cinema. La pessima legge cui fa riferimento Nanni Moretti e che chiede a Crociata che tutti si allenino con lui per cercare, insomma, di tagliarla, di evitarla, di farla decadere, ora non so cosa si sia messo in mente, è il fatto che non ci siano più questi soldi a pioggia. Mi viene un po' in mente, un po' come con il reddito di cittadinanza, quando tu stacchi la spina e non fai più arrivare questi soldi così, diciamo, piovuti dal cielo, ebbè la gente si incazza e in questo caso è quello che è accaduto. Allora questo è il sistema dietro il quale si pensa che qualcuno si sia fortemente nervosito, sia fortemente contrariato e abbia magari utilizzato tutto un meccanismo che è iniziato ben prima della boccia, perché San Giuliano viene massacrato dal primo momento in cui si è essediato al Ministero e l'hanno attaccato per le sue GAF, ora non ci sono ministri che hanno fatto delle GAF, sicuramente anche quelle di San Giuliano sono delle GAF clamorose, questo non se ne discute, però io mi ricordo un ministro dei trasporti, un tale Toninelli, non so se voi lo ricordiate, che parlava di tunnel nel Brennero, ma questo è uno dei tanti, però non mi sembra che si siano fatte delle crociate così feroci per magari rimuoverlo dal suo ruolo, dicendo che forse un ministro dei trasporti che parla di tunnel nel Brennero magari non è adatto a quel ruolo, però questo non è accaduto. Con San Giuliano dal primo momento in cui si è insediato nel Ministero c'è stata questa crociata, perché? Perché si è nasato, si è sentito che lui veramente ha cercato, ha voluto provare a scardinare quello che ormai era un sistema che sembrava proprio intoccabile, quella classica egemonia di sinistra, che per definizione la cultura deve appartenere alla sinistra. questi soldi che devono essere dati a questi registi impegnati che non ti portano spettatori dentro il cinema. Il che dice, signori, non è che i soldi si regalano, se tu sei meritevole, prendi comunque i soldi, ricevi delle sovvenzioni, però non si può darli così tu cur a chiunque. E questo evidentemente è un sistema che non andava bene, quindi dietro questo spretesto, questo scandalo, di questo affare de gossip di letto, ci si chiede, ma c'è qualcosa di più? C'è una manina dietro tutto questo voler far sì che San Giuliano uscisse di scena legato agli interventi che lui ha voluto apportare dentro la cultura per cercare, ripeto, di cambiare qualcosa? Questo chiaramente lo vedremo, lo vedremo nel tempo, perché io credo che poi il tempo riesca a dare tutte le risposte, però il sospetto è legittimo, il sospetto è legittimo perché casualmente mai nessun ministro è stato della cultura, parliamo, è stato martorizzato in questo modo come lo è stato San Giuliano fin dall'inizio. Ripeto, utilizzando poi una squallidissima storia sentimentale, relazione extracognugale che per l'amore di Dio qui non c'è nessuno che vuole santificare nessuno. Io credo che tutti abbiano le loro responsabilità in questa vicenda, però al di là dei moralismi, al di là dei bigottismi, al di là di quelle che dovrebbero essere, voglio dire, delle situazioni che una persona si dovrebbe risolvere dentro casa con chi di dovere, non certo con gli italiani. Io ho trovato, e chiudo per concludere questa vicenda, ho trovato piuttosto squallido che un ministro si sia dovuto presentare agli italiani davanti alle telecamere per giustificarsi di aver avuto un amante, ma non perché io legittimo un comportamento perché io non sono nessuno e credo che nessuno dovrebbe giudicare, ognuno dovrebbe guardarsi in casa propria, ma perché siamo arrivati a una deriva del politicamente corretto tale per cui uno si deve scusare se tradisce la moglie agli occhi degli italiani. Credo che questo dovrebbe essere un argomento da risolvere, ripeto, dentro casa. e possibilmente, possibilmente, senza che pubblicamente l'amante dia della capricciosa alla moglie perché gli è saltato il contratto di consulenza. Questo farebbe parte di quella sorta di buon costume, di dignità, che la stessa boccia dice di voler rivendicare col suo comportamento, ma che, insomma, dare della capricciosa alla moglie di dignitoso ha ben poco.